31 dicembre 2017. Oggi si conclude un anno molto impegnativo, soddisfacente, che saluto con un sorriso, pronta ad accogliere un 2018 che spero radioso e positivo. Sono state tante le esperienze che ho vissuto nei mesi scorsi, momenti nei quali mi avete accompagnata, sostenuta, appoggiata e per questo vi voglio ringraziare. Il calendario degli appuntamenti di quest'anno è stato davvero intenso e denso. Ho ricevuto inviti a decine di iniziative con le quale avete confermato di essere ancora molto attivo e impegnato, pieno di voglia di fare. Ho viaggiato tanto per il mondo, ma anche per tutta la nostra circoscrizione, per tutta l'Italia, per partecipare agli eventi ai quali mi avete invitata, nel quale ho avuto la fortuna di conoscere persone strepitose e storie toccanti. Con il vostro supporto e sostegno e con la vostra vicinanza ho raggiunto obiettivi importanti. Insieme abbiamo fatto sentire forte la nostra voce, abbiamo costruito nuove rete di amicizia e di collaborazione che sono sicura ci porteranno lontano. Abbiamo gettato le basi per il futuro e consci anche del fatto che ci sarà ancora molto da lavorare, molto da fare, ma siamo su una buona strada, insieme. Insieme percorreremo una lunga storia, le vostre storie, le nostre storie, dove tutti ci identifichiamo. Non voglio andare oltre e rubarvi tanto tempo perché oggi è il 31 dicembre, ripeto, e quindi ci troviamo dentro una casa piena di calore, c'è chi magari non ha nessuno a fianco e questa voce gli arriva, gli arriva per fare la compagnia. E quindi alle festività che stiamo vivendo in questo momento spero che ognuno di voi sia il più possibile sereno e felice. Ancora una volta sento il desiderio di dirvi grazie, ma un grazie di cuore per tutto quello che avete fatto, per come abbiamo lavorato insieme, camminando, mano nella mano, a volte nel bene, a volte nel male, ma sempre insieme. E gli stimoli che ogni giorno mi date, sempre questo, sulla mia strada, io trovo tutto questo meraviglioso. Il lavoro non sarebbe altrettanto gratificante e troverei difficilmente la voglia di continuare in questa grande sfida europea senza voi, senza aprire la finestra, senza aprire la porta e vedere che dall'altra parte ci siete. Mi piace anche salutarvi con le parole che Papa Francesco rivolse alcuni anni fa a un gruppo di giovani dai quali era in visita nel Piacentino e disse nella vita ci saranno sempre persone che vi faranno proposte per frenare, per bloccare la vostra strada, per favore andate controcorrente, siate coraggiosi. Andare controcorrente significa fare rumore, andare avanti, ma con i nostri valori, con i valori della bellezza, della bontà, ma i valori della felicità. E' proprio su questo che vorrei augurarvi di nuovo buon anno e spero di ritrovarci di nuovo qui, sempre insieme, camminando mano nella mano. Grazie ancora.